Da qualche settimana Nrk Beta, un sito di Newsd di tecnologia, che fa parte della TV di Stato norvegese, sta sperimentando un nuovo sistema per la moderazione dei commenti. Per poter commentare alcuni articoli, ciascun lettore deve rispondere correttamente a un piccolo quiz per dimostrare di avere effettivamente letto il testo dell'articolo. Il direttore di Nrk Beta Marius Arnesena ha raccontato a Niemang Lab che l'esigenza di un sistema più efficace di moderazione è nata quando alcuni articoli hanno raggiunto lettori al di fuori della bolla degli appassionati di tecnologia che forma la base dei commentatori del sito, per esempio quando un articolo di Nrk Beta è apparso nella Homepage di Nrk, il sito principale del gruppo. In quel momento siamo stati raggiunti da molte persone che non sono molto a loro agio con i toni da usare online. Al momento solamente alcuni articoli sono provvisti di questo sistema di moderazione. Quelli considerati più a rischio perché trattano un tema particolarmente delicato.